è uscito il report sugli abusi online durante il periodo della Rugby World Cup 2023 sono stati presi in considerazione per l'analisi generale 1.300.000 tra post e commenti su Twitter e Instagram gli arbitri hanno ricevuto il 49% di tutti gli abusi online durante il torneo e 3 arbitri in particolare sono stati nella top 10 degli individui più colpiti dall'odio online sono stati scoperti 224 account verificati che esercitavano odio online, abusi online durante il periodo della World Cup e per non farci mancare niente addirittura 3 account italiani verificati bravi pagliacci il picco dell'odio si è raggiunto in due occasioni durante i quarti di finale tra Francia e Sudafrica e Inghilterra-Figgi 15 ottobre e dopo ovviamente dopo la finale tra Nuova Zelanda e Sudafrica le squadre più colpite dall'odio sono state l'Inghilterra, Sudafrica e Francia ma il dato interessante è che al quarto posto troviamo gli arbitri World Rugby in generale tutto questo report ovviamente lo potete trovare e scaricare dal sito di World Rugby Rugby si scrive con la R di rispetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti